Innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Oggi su iniziativa dell'assessore Saltamartini e dell'assessore Baldelli che si occupano chiaramente della gestione della sanità sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista medico assistenziale facciamo una presentazione del RR e del master plan dell'edilizia sanitaria. Questo è un passaggio importante perché chiaramente illustriamo la destinazione di risorse e progetti per la nostra regione molto significativi. Parliamo orientativamente di finanziati oltre a 759 milioni e quasi un miliardo complessivo nell'oriente nel periodo oriente di qualche anno. Quindi chiaramente si tratta di risorse molto 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 importanti. chiaramente questo la maggior parte di questi investimenti soprattutto quelli del PNRR hanno una destinazione che sono fortemente condizionati anche da criteri stabiliti al ministero e criteri stabiliti al Governo nazionale e insieme agli altri investimenti che già alcuni sono in essere e noi abbiamo contribuito a determinarne le risorse per completarli e altre che sono in via di individuazione sono le infrastrutture che determineranno il disegno della sanità futura. Io molto brevemente voglio aggiungere due elementi a questa discussione e a questa presentazione di oggi. Chiaramente parliamo di risorse ingentissime però nella sanità soprattutto in questo momento ma comunque sempre le risorse che dovrebbero essere disponibili per accontentare tutte le richieste sono infinite. quindi nonostante un numero di risorse elevatissime ci sono degli interventi che rimangono fuori il che non significa un intervento che rimane fuori è un intervento che non è prioritario o che non verrà finanziato o realizzato. significa che in questa fase siamo riusciti a finanziare questi interventi e per gli interventi rimasti esclusi ci saranno delle altre opportunità sia con i finanziamenti di cui potremo disporre nelle prossime stagioni anche imminenti sia anche con un'azione che noi stiamo cercando di realizzare di riorganizzazione ma anche di revisione dei costi delle nostre aziende ospedaliere perché siamo molto convinti che sia tramite l'ottimizzazione delle risorse che noi dobbiamo di cui noi disponiamo ogni anno sia anche nella revisione dei costi delle aziende si possono trovare spazi utili a generare risorse che possono poi essere investite sul territorio sia con infrastrutture materiali sia con strumenti sia finanziamenti di risorse anche sul personale. chiaramente a generare questo tipo di azione non è semplicissimo, occorrono dei tempi, occorrono delle procedure, occorrono anche delle progettualità che devono essere inserite, delle azioni che devono essere inserite nei nuovi piani soci sanitari, nella nuova legge di riorganizzazione dell'azienda ospedaliere però la strada che vogliamo percorrere è a quel tipo di strada che ho accennato molto brevemente. Non la faccio più lunga perché credo che sia importante passare la parola subito agli assessori affinché illustrino gli interventi che sono invece stati finanziati che sono un traguardo importantissimo per la nostra ragione. Non so se inizia Saltamartini o inizia Baldelli, inizia Saltamartini. Quindi subito la parola a Filippo Saltamartini. Grazie a tutti e innanzitutto desidero ringraziare i dirigenti della regione, dell'ASU, delle aziende che con grande alacrità sono riuscite a predisporre la bozza del PNRR dopo aver ascoltato tutti i soggetti istituzionali che meritavano di essere ascoltati. Quindi c'è stato un turnover con le organizzazioni rappresentative sociali, gli ordini professionali e naturalmente proseguiremo in questa interlocuzione per spiegare il senso e il significato del PNRR Sanità. PNRR Sanità che oggi viene integrato con le risorse del Master Plan sull'edilizia sanitaria. Innanzitutto voglio precisare una questione che è immersa nell'incontro con i sindaci. Perché si fa questo intervento in una città piuttosto che in un'altra? I criteri che noi abbiamo utilizzato per l'individuazione degli investimenti sul PNRR hanno visto sostanzialmente una ricognizione delle strutture esistenti per le case di comunità partendo dalle case della salute e per gli ospedali comunità dai 13 ospedali che erano stati precedentemente riconvertiti. La seconda questione che deve essere precisata è che gli interventi PNRR riguardano la sanità territoriale. E cioè il Ministero della Salute e Agenas, il Governo e l'Europa hanno visto come anello mancante del servizio della sanità questo segmento tra l'assistenza primaria e la medicina per acuti, gli ospedali per acuti. Qui si conto che tra l'assistenza primaria, i medici di medicina generale, pediatri libera scelta, il territorio sostanzialmente e gli acuti mancasse questo segmento. Questo segmento viene individuato negli ospedali di comunità e nelle case di comunità. I finanziamenti che sono qui previsti li conoscete e gli interventi pure li conoscete. Se non li conoscete adesso attraverso questo documento potrete attingere esattamente a tutti gli interventi che sono previsti. A questo si devono aggiungere 27 milioni strategiche sulle macchine elettromedicali. Che sono state individuate queste macchine elettromedicali sulla base di un criterio che è quello dell'obsolescenza. Il Ministero ci ha chiesto di verificare le macchine che avessero più di 5 anni e contestualmente ha deliberato e autorizzato l'acquisto di tutte queste strumentazioni che andranno a irrobustire la tecnologia della nostra regione. Poi c'è il PNRR che riguarda la digitalizzazione e il PNRR che riguarda tutto l'ammodernamento tecnologico a livello digitale del servizio sanitario regionale. Qui il tema è complicatissimo perché di fatto vertendo la nostra regione e il nostro paese sulla mancanza della formazione dei medici. I medici non ci sono, non sono presenti sul mercato del lavoro pubblico. Il Ministero e Agenas si stanno indirizzando verso servizi telemedicina, teleconsulto, telereferto e tutto ciò che riguarda le nuove strumentazioni, probabilmente anche con l'intervento di intelligenza artificiale. Gli interventi che noi facciamo sono anche per far parlare i linguaggi informatici delle diverse aziende perché diversi linguaggi informatici non consentivano l'omogeneizzazione della comunicazione tra le quattro aziende regionali. E l'altra questione, sempre in fatto di digitalizzazione, riguarda l'implementazione e l'uso del fascicolo sanitario elettronico. Qua su un milione e mezzo di cittadini marchigiani, solo circa 80 mila fanno uso del fascicolo sanitario elettronico e questo è oggettivamente un problema ed è un disagio per gli stessi cittadini i quali non possono evidentemente fluire delle nuove tecnologie per quanto riguarda la possibilità di scaricare referti, prenotazioni, loan banking per pagare le prestazioni e così via. Detto questo, non credo che adesso Presidente sia il caso di dettagliare interventi per interventi. Voglio semplicemente aggiungere, essendo questa una conferenza stampa, che dopo 14 mesi noi siamo in grado, indipendentemente dalle risorse che evidentemente sono ricavate dal PNRR e da altre risorse pubbliche, ma dopo 14 mesi siamo in grado di rispondere alla domanda che era stata rivolta 14 mesi fa al corpo elettorale, cioè la sanità di prossimità. Guardate che questo passaggio, al di là delle carenze che si manifestano, che si manifesteranno per effetto appunto della carenza dei medici nei prossimi mesi, e nei prossimi anni forse, questo passaggio è un passaggio pocale perché di fronte alla concentrazione dell'offerta sanitaria in ospedali unici rispetto invece ad una suddivisione degli ospedali più o meno su ogni provincia e con l'individuazione di ospedali di comunità, case di comunità e telemedicina, noi restituiamo ai cittadini questo rapporto prioritario che è dell'assistenza primaria, ma soprattutto per la cura di patologie come quelle croniche per esempio. E non è un caso evidentemente al di là di quello che sia l'opposizione, sia tanti osservatori hanno esplicitato sui mezzi di comunicazione di massa, non è un caso che il piano PNRR venga portato all'approvazione dell'aggiunta oggi perché entro il 28 febbraio deve essere presentato e le schede devono essere depositate al Ministero. Si valuti che entro maggio dovrà essere sottoscritto l'accordo di programma con il Ministero della Salute per la realizzazione delle opere e tutte le opere previste al PNRR devono essere completate entro l'anno 2026 e con un'avvertenza molto particolare che se una sola opera, se una sola casa della salute o un solo ospedale di comunità non dovesse essere realizzato, questo non a livello regionale ma a livello nazionale, sembra che l'Europa non erogherà i fondi previsti al PNRR. Quindi noi ci siamo assunti sulle nostre spalle insieme ai dirigenti un peso enorme e che questo peso riguarderà successivamente tutte le gare, gli appalti, l'esecuzione dei lavori, il controllo dei tempi prestabiliti e lo stesso passaggio che era stato criticato quando si era detto che le spese non coprivano le normative antincendio, tutti questi passaggi sono stati pesati per far sì che questi interventi sono efficaci nei limiti e nei tempi stabiliti dall'Europa e dallo stesso PNRR. Quindi con orgoglio oggi presentiamo questo piano, nei dettagli conoscete nel documento gli interventi, se vorrete poi potrete formulare delle domande a cui sicuramente i colleghi siano qui per rispondere. Volevo dire che con orgoglio noi siamo nei pieni tempi e a livello regionale possiamo essere orgogliosi di partecipare quali attori in prima fila allo sviluppo del nostro Paese in fatto di piano nazionale di ripresa e di resilienza. L'unica condizione, l'unico dubbio, ma non è un dubbio generale, è che in questo Paese sull'edilizia si abbattono un sacco di investimenti, quindi io non voglio mettere le mani avanti. C'è la ricostruzione post-sisma, c'è il 110%, ci sono tutta una serie di bonus, quindi questo lo dico soprattutto agli ingegneri e ai tecnici che ho ringraziato e voglio rinnovare il ringraziamento che l'impegno dovrà essere magistralmente doppio, proprio perché le difficoltà della nostra Regione sono doppie rispetto ad altri territori, perché appunto noi dobbiamo scontare anche l'edilizia sismica. Grazie. Grazie a te Filippo, la parola alla stessore Baldello. Grazie Presidente, io mi leggo a quanto detto dall'assessore e dal collega Saltamartini, il cambio di passo della giunta a Quaroli in sanità mi sembra del tutto evidente, non solo per le risorse che oggi vi presentiamo e che destiniamo in una visione complessiva alla sanità marchigiana, quella territoriale e quella ospedaliera, ma perché voi sapete come l'Assemblea legislativa abbia recepito un'indicazione della giunta regionale che è quella di restituire il diritto alla salute per quanto di competenza della Regione ai territori, alla costa così come ai territori interni, alle grandi così come alle piccole città, fatta intelligentemente calibrando il passo secondo le possibilità della Regione. E allora già i tecnici ci hanno messo questa prima slide in cui, come voi sapete, ad inizio mandato la giunta a Quaroli ha approvato un masterplan dell'edilizia ospedaliera. Un masterplan, ossia un atto di dinamica a breve e medio termine che facesse comprendere non solo la classe politica, l'istituzione, la filiera istituzionale, quel percorso che si era intrapreso invertendo una tendenza su indicazione dello stesso elettorato nell'ultima competizione elettorale che c'è stata, ma che facesse comprendere dove la sanità marchigiana stesse andando. E questo piano dinamico noi lo abbiamo aggiornato continuamente, andando ad incercettare più filoni di finanziamento. Questi filoni di finanziamento che abbiamo intercettato portano il masterplan dell'edilizia ospedaliera al netto, quindi non considerando le risorse dove troverete indicazioni specifiche per quanto concerne gli interventi della sanità nelle slide che vi sono state sottoposte, nelle prime otto slide, al netto di quegli interventi, tra interventi in esecuzione, in cantierizzazione e in progettazione, il masterplan contiene investimenti per 923 milioni di euro. Quali sono le cifre del masterplan che sono poi state oggetto di una delibera che abbiamo approvato oggi in giunta? Ossia siamo andati progressivamente ad integrare le risorse che avevamo a disposizione in questo anno di governo della giunta a Quaroli. Le cifre del masterplan prevedono innanzitutto 50 interventi, a cui si aggiungono ulteriori 34 interventi del DL34, che ormai conosciamo tutti per l'adeguamento alla situazione pandemica che abbiamo dovuto affrontare e che stiamo ancora affrontando. 50 interventi che prevedono la costruzione di tre nuovi ospedali, ne abbiamo ormai parlato spesso. Anche qui c'è stato un vero e proprio cambio di passo, sia per la provincia di Pesaro Urbino, col nuovo ospedale di Pesaro, l'ospedale di Macerata, che come vedrete già per la prima volta compaiono delle risorse per l'ospedale di Macerata e abbiamo già in disponibilità 60 milioni di euro, oltre 60 milioni di euro, oltre alle risorse per la progettazione, e l'ospedale di San Benedetto del Tronto, per il quale oggi abbiamo approvato la delibera che cristallizza delle risorse. Le risorse per l'individuazione dell'aria, quindi uno studio di prefattibilità. Ecco ancora una volta il cambio di passo. Le strutture non rimangono più nel dibattito politico, ma entrano finalmente, dopo tanti anni, io dalla provincia di Pesaro sentivo parlare dell'ospedale di Pesaro, poi di quello di Macerata, di San Benedetto, da anni e anni. Questa giunta ha individuato le risorse, ha individuato le procedure e quindi ha avviato il procedimento per la costruzione reale di questi tre nuovi ospedali. Poi sei nuove per le emergenze. Conoscevamo la struttura di Fabriano, 14 milioni di euro per una struttura in un'area sismica che deve essere adeguata alla qualità dei servizi che quell'ospedale deve esprimere. Sulla base di quell'esempio virtuoso, di una sostanzialmente palazzina sismica disaccoppiata al terreno per cui ci può essere un evento emergenziale come quello di un terremoto, quella palazzina non avverte il terremoto e continua a lavorare, abbiamo pensato di riproporre come giunta questo intervento anche sugli ospedali di Urbino, di Fano, di Senigaglia, di Civitanova Marche e d'Ascoli Piceno. In alcune di queste strutture, non approfondisco i dettagli, ma abbiamo trovato delle situazioni edilizio ospedaliere direi non più consone con la qualità che quelle strutture devono esprimere in termini di servizio all'utenza. Devo dire, e me lo permetta il Presidente Acquaroli, che forse quelle strutture le si voleva chiudere, perché non c'erano le condizioni per poter reggere nei prossimi anni quelle che sono le norme per l'autorizzazione dei servizi e l'accreditamento delle strutture stesse. Per cui interveniamo in corsa, potrei dire in calcio d'angolo, per salvaguardare queste strutture ospedaliere, che in un sistema policentrico con più centri e non con ospedali unici devono avere una qualità edilizia strutturale che consentano ai professionisti di poter erogare servizi ai nostri cittadini. Poi tre nuovi ospedali di comunità hospice, qui in parte le risorse arrivano dalla sanità che vengono rigirate all'edilizia sanitaria ospedaliera, che sono Cagli, Fano e Tolentino. Quattro nuovi ospedali in corso di esecuzione, in cui andiamo ad integrare i finanziamenti con alcune varianti che abbiamo approvato e sono il Salese, Lirca, qui a Dancona e gli ospedali di Fermola e Amandola che procedono speditamente verso il completamento. Una ristrutturazione integrale dell'ospedale di Pergola, anche questo insieme a Senigallia ed altre strutture abbiamo trovato in condizioni edilizie molto molto precarie e 33 riqualificazioni di strutture sanitarie ospedaliere esistenti. Con la delibera di oggi appunto, come vi dicevo, andiamo ad integrare questo fabbisogno complessivo del masterplan di circa un miliardo di euro, 993 milioni, con 157, 595 mila milioni di euro. Da dove derivano queste risorse? 14 milioni dal piano nazionale di ripresa e resilienza ospedali sicuri, 33 milioni dal fondo complementare e 78 milioni, una parte diciamo preponderante, da fondi regionali, da piani operativi regionali e dall'articolo 20 della legge 67 dell'88 che finanzia l'edilizia sanitaria e ospedaliera. Poi abbiamo intercettato 10 milioni e 100 mila euro per fondi di progetto sviluppo a carattere innovativo, i fondi per il rischio sismico oltre 13 milioni di euro e poi come abbiamo detto proprio oggi abbiamo cristallizzato i 400 mila euro per la progettazione dell'ospedale, del nuovo ospedale di San Benedetto che attiveranno ulteriori circa, è presuntivo ancora il calcolo, 80 milioni di euro per finanziare il master plan dell'edilizia sanitaria e ospedaliera. Perché dico che è indicativo la cifra di 80 milioni? Perché ovviamente lo studio di fattibilità ci indicherà quali tra le alternative progettuali verrà scelta e quale sarà il costo certo di quell'opera che oggi noi computiamo intorno agli 80 milioni di euro. E poi il fondo PNRR viene trasferito dall'assessore Saltamartini ai nostri uffici per 7 milioni di euro. Nella slide successiva che non vi sto a indicare vi è il dettaglio di una serie di interventi che cubano appunto 922 milioni di euro, 923 milioni di euro di cui già disponibili per le operazioni fatte dalla giunta a Fuaroli dal suo insediamento 750 milioni di euro. Le principali linee di finanziamento di questi 759 milioni di euro oltre i 150 che vi ho detto in precedenza sono così ripartiti 265 milioni di euro dai fondi della regione Marchio, da piani operativi regionali, da fondi di sviluppo e coesione e dal bilancio stesso della regione Marchio, da fondi statali per 310 milioni di euro e poi come vi ho detto poco fa da fondi del sisma, dal fondi di PNRR e PNC ossia dal fondo complementare, da fondi del rischio di prevenzione del rischio sismico, anche da alcune donazioni e infine dal piano di bonifica amianto che presentammo qualche settimana fa per le richieste che ci erano giunte da Asur e da aziende ospedaliere per la presenza di amianto ovviamente sempre controllato ma non lo controlliamo più, lo andiamo a rimuovere nelle nostre strutture ospedaliere. Questo che è l'ultima slide che secondo me è molto interessante per far vedere come la giunta a Fuaroli abbia riequilibrato gli investimenti in tutte le province quindi andando ad integrare non che gli investimenti che sono stati fatti in precedenza non fossero necessari, ma c'era necessità come dicevamo di garantire tutti lo stesso servizio sul territorio, quindi dal sud al nord della regione, dal centro alla periferia, tenendo in considerazione in una regione orograficamente così complessa come la regione Marche anche i piccoli centri dove vive la metà della nostra popolazione oltre quella costiera. E così vediamo che 253 milioni di euro sono dedicati alla provincia che ospita il capoluogo di regione quindi a Dancona, 217 milioni alla provincia di Pesaro, 197 milioni alla provincia di Macerata, 143 alla provincia di Fermo e 110 alla provincia di Ascoli. Questo dato non sarebbe comprensibile se non dividessimo queste risorse a disposizione secondo la distribuzione degli abitanti nelle nostre province e così vediamo che ferma un investimento di 848 euro pro capite, Macerata di 642 euro pro capite, Pesaro di 582 euro pro capite, Ancona di 546 e Ascoli Piceno di 543. Quindi con questi investimenti andiamo a riequilibrare le risorse che distribuiamo sul territorio pro capite ma significa anche dare la stessa qualità di strutture ospedaliere nel breve e medio termine perché poi i cantieri hanno necessità di tempi tecnici che non possiamo ovviamente tagliare ma nel breve e medio periodo noi distribuiremo queste risorse ma soprattutto i servizi in maniera qualitativamente equanime a tutti i territori della nostra regione. Io concludo qua, vi ringrazio per l'attenzione e poi come diceva il collega assessore alla sanità se avete necessità di ulteriori e delle lucidazioni siamo a disposizione. Se c'è qualche intervento dei colleghi oppure se ci sono domande da parte dei giornalisti in sala o connessi da remoto. Vedo la prima mano alzata. Se può parlare sul microfono. Sui tre nuovi ospedali Pesaro, Macerata, San Benedetto se si poteva fare il punto per capire a che punto siamo con la pubblicazione del bando eccetera. E poi su Fano, l'ospedale Santa Croce si tratta quindi di una ristrutturazione o di un nuovo edificio? Allora, inizio dall'ultima, che me la ricordo meglio, per il Santa Croce come sapete costruiremo il nuovo ospedale di Pesaro in una logica policentrica in cui i servizi verranno offerti ad integrazione ovviamente tra le strutture presenti sui territori come accade in tutte le altre province della nostra regione e anche dall'ospedale di Fano. L'ospedale di Fano, stiamo pensando alla realizzazione di una nuova palazzina disaccoppiata anche qui al terreno in grado di gestire le emergenze in qualsiasi situazione e sono previsti 16 milioni di euro per quella palazzina legata strettamente all'ospedale oltre ad altre risorse che sono previste invece per la sanità territoriale secondo le decisioni della Giunta Acquarogli e la pianificazione dell'assessore Saltamardini. Per quanto riguarda l'ospedale di Pesaro, il Presidente Acquarogli, già dal suo insediamento, aveva affermato molto chiaramente che la provincia di Pesaro ha spesso un nuovo ospedale di cui si parlava inutilmente ormai da decenni. Ha avviato insieme alla Giunta una procedura che ha portato, come sapete, non solo all'integrazione delle risorse che non erano sufficienti per la realizzazione di quel complesso ospedaliero, siamo arrivati, come vedrete in una delle slide che vi è stata consegnata, a prevedere e finanziare tutte le risorse necessarie per la costruzione del nuovo ospedale di Pesaro, ossia 150 milioni di euro. E poi non è una novità che è stato costituito, istituito un gruppo di lavoro per la localizzazione della sede, c'erano in ballo due valutazioni sulla sede dell'ospedale di Pesaro, una a caso in bruciate, che non nego, mi vedeva da un punto di vista edilizio di pianificazione sanitaria, più favorevole come allocazione, ma le valutazioni complessive del gruppo di lavoro hanno preso in considerazione le valutazioni dell'edilizia sanitaria ospedaliera, ma anche la necessità di pianificare in altro luogo per esigenze sanitarie la struttura ed è stato localizzato il sito dove verrà costruito il nuovo ospedale di Pesaro. Ovviamente questo segue un accordo di programma che nella Leale Collazionale dovrà essere sottoscritto tra gli enti, ossia Regione Marche e tutti gli altri enti interessati alla realizzazione dell'ospedale, penso in questo momento all'azienda ospedaliera, penso all'assuro per alcuni servizi che sono di natura territoriale e ovviamente al Comune di Pesaro che ha sulle proprie spalle le competenze di natura urbanistica. Per quanto riguarda l'ospedale di Macerata, dicevamo prima, siamo partiti anche qui in una fase ancora più arretrata rispetto a quella di Pesaro, non vi erano risorse economiche individuate per l'ospedale di Macerata, l'assessore alla sanità ha chiesto e ottenuto le risorse per la progettazione, io mi sono occupato di recuperare altre risorse per la realizzazione dell'ospedale e abbiamo già a disposizione 60 milioni, oltre 60 milioni per la realizzazione, ovviamente le andremo ad integrare quando con la progettazione capiremo esattamente il costo della struttura ospedaliera, ma abbiamo già ovviamente individuato i canali di finanziamento per l'ospedale di Macerata. Arrivo a San Benedetto dove abbiamo anche qui stanziato le risorse economiche per lo studio di fattibilità, per la scelta delle soluzioni diciamo progettuali a seconda ovviamente del sito che verrà individuato per la costruzione del nuovo ospedale, anche qui c'è una procedura che si attiva con lo stesso comune di, si dovrà attivare con lo stesso comune di San Benedetto del Pronto che ha le competenze urbanistiche per l'edificazione di questa nuova struttura ospedaliera, che abbiamo già inserito nel masterplan con un costo parametrico in relazione ai posti letto che offre l'ospedale di San Benedetto di 80 milioni di euro. Credo di aver risposto a tutto. Allora qui sono elencate le strutture e ovviamente non possono essere dei gusci vuoti, quindi per il 2026 che prospettiva c'è di personale che vada a lavorare in queste strutture sul territorio? Allora, bella domanda, dunque il PNRR se si è, se sono riuscito prima a spiegare bene, che si ritiene a livello nazionale dover attuare proprio per colmare appunto una lacuna nella cura della sanità territoriale. Quindi si investe su case di comunità e ospedali di comunità. Gli ospedali di comunità noi li abbiamo già, quindi quale personale va a lavorare negli ospedali di comunità? Medici di medicina generale, perché gli ospedali di comunità hanno letti di cura intermedia. Chi va a lavorare nelle case di comunità? Le case di comunità sono la prosecuzione delle case della salute. Nella nostra regione ne esistono alcune ed altre devono essere attivate e vengono finanziate. Che cosa succederà da qui al 2026? La regione Marche, per essere chiari, noi più volte abbiamo detto che secondo noi va eliminato il numero chiuso a medicina, perché se noi non riusciamo a trovare sul mercato i professionisti necessari, è evidente che questo è un problema che si impone. Si è collegato, se c'è qualcuno che ha il microfono aperto abbiamo un ritorno in sala, per cortesia chiudetelo. Allora, è un problema che si pone. Allora, per quanto riguarda tutto, le case di comunità dovrebbero mettere insieme i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli equipaggi delle ADI, l'infermiera di comunità. Sul PNRR c'è anche una scheda relativa ai servizi sociali che vengono implementati. Poi se volete, se non li avete, ve li mandiamo. Quindi diciamo che si vuole mettere insieme tutto ciò che in questo momento esiste. Il tema però del personale, del tetto di spesa, è un tema che tutti gli assessori alla sanità e tutte le regioni hanno portato sul tavolo del governo, anche se voi vedete anche i giornali di oggi, i giornali nazionali chiedono quali sono gli interventi sul personale. Il governo risponde telemedicina, teleconsulto, teleconferenza, diciamo così, medicina di prossimità e tutto ciò che evidentemente possiamo mettere. Però in questo momento, nel momento in cui noi presentiamo il più importante piano di intervento dal 2012 in poi, perché non vi dimenticate che dal 2012 fino ad oggi il nostro Paese ha potato tutte le risorse che sono state recuperate sulla spesa pubblica, sono state amputate ai servizi sanitari. La stessa mancata programmazione nella formazione personale è frutto di questa politica. Oggi si inverte il sistema. Questa cooperazione che c'è dalla parte della Giunta regionale per dare questi servizi, evidentemente fa sì che noi saremo in grado di riorganizzare il sistema entro il 2026. Ma da qua al 2026 non possiamo sottacere il fatto che probabilmente vanno innestate nuove professionalità, vanno modificate alcune norme. Uno di queste norme, per esempio, è l'incompatibilità tra la funzione di medico, informazione, medicina, di famiglia e la continuità assistenziale. Cioè ci sono tutta una serie di questioni che vanno risolte sul tavolo nazionale, che molto spesso si portano sul tavolo regionale. Quindi le politiche del personale che si possono fare, lo voglio sottolineare, sono politiche del personale di scelta del Governo nazionale. Il Governo nazionale in materia di sanità ha tre poteri fondamentali. Il primo, individuare i principi. Il secondo, individuare i livelli essenziali delle prestazioni. Il terzo è il finanziamento della sanità. Cioè il finanziamento del servizio sanitario avviene attraverso i tributi che sono riscossi dallo Stato. Non è la Regione che ha risorse proprie, contributi propri, con fondi propri, che finanzia il personale della sanità. E presentando questo piano, è importante sottolineare che c'è un'inversione completa di trend. La domanda che è il caso di esplicitare è se non ci fosse stato il signor Covid avremmo avuto oggi la stessa sensibilità. Noi in realtà, se mi permettete, Presidente, se mi permettono i colleghi, quando abbiamo fatto la campagna elettorale, abbiamo detto, rivolgiamo la sanità di prossimità, rivolgiamo gli ospedali vicino alle comunità locali. Questo l'abbiamo fatto prima del signor Covid. Adesso probabilmente con il signor Covid anche le nostre opposizioni si sono rese conto che accentrare ospedali era del tutto sbagliato. Ma questo lo stiamo vivendo in relazione ad una pandemia. Due domande flash. Una è per integrare quella che ha già fatto Linda, ma era per capire un aspetto. Nel senso che, visto che i fondi PNRR permettono di fare anche lavori che magari la Regione ha voluto fare comunque, penso all'antincendio, all'antisismica, se questo potrebbe portare a delle politiche di incentivi lavorativi, ovvero, ad esempio, il problema guardie mediche, si parla di nuovi contratti per favorire, spingere i medici a fare le guardie mediche, quindi dargli più soldi. Idem potrebbe essere per i medici di base. E se magari esistono, questa è una domanda, politiche che si possono fare di incoming per diventare attrattivi da un punto di vista lavorativo, dando più risorse. Quindi, da un punto di vista di personale, capire se si possono aumentare le risorse regionali. E l'altra, per quella che riguarda il territorio, in questo caso la provincia di Fermo, anticipando quelle che potrebbero essere le sottolineature dei sindaci, ha logica mettere dentro i 100 milioni dell'ospedale di Fermo, che quindi ovviamente fa crescere la quota pro capite per ogni cittadino, visto che parliamo di un finanziamento che comunque ha anni addietro, adesso è stato integrato giustamente, ma che è datato. Mi spogliono poi la seconda questione. Certo che ha senso, perché come lei ha ascoltato precedentemente, per avere una visione complessiva dei servizi che andrà a erogare la sanità marchigiana in tutto il territorio, bisogna che la sanità marchigiana sappia dove sta investendo soldi, in cui, che tra l'altro, ancora non hanno visto la inaugurazione del nuovo presidio ospedaliero, e perché noi siamo anche andati ad integrarle, perché abbiamo migliorato il progetto che abbiamo trovato in essere con alcune varianti, anzi, le dico di più, troverà ulteriormente fermo nei nostri piani di attuazione. Ecco perché si parla di master plan, un piano dinamico. Noi ci abbiamo messo circa milioni nell'ultimo aggiornamento e, come dicevo poco fa, aggiorneremo ulteriormente quel piano perché prevederemo le macchine di cui stava parlando o tra poco parlerà l'assessore alla sanità, quindi tutta la strumentazione che incide in maniera corposa sulla struttura, ma andremo a completare anche la viabilità intorno all'ospedale di fermo. Guarda caso, io sto seguendo la struttura ospedaliera, seguirò anche, da un punto di vista infrastrutturale, tutto il collollario di interventi che sono necessari attorno all'ospedale di fermo. Quindi troverà questi come in futuro troverà anche aggiornati gli investimenti che oggi facciamo che rimarranno nel master plan per dividere equamente queste risorse su tutto il territorio regionale. Sul resto lascio la parola al collega Saltamattini. La domanda, il capitolo della domanda sulla continuità assistenziale, se e come incentivare i trattamenti per incentivare questi giovani medici a espletare questo servizio. Quando i medici erano tanti, ricordatevi il film di Alberto Sordi, il medico di famiglia, i medici appena laureati iniziano la loro attività con la continuità assistenziale. Poi ci siamo inventati le borse di studio per cui attraverso la specializzazione si apura un trattamento. Il problema è che i trattamenti del personale sono stabiliti dal contratto nazionale di lavoro, non lo stabilisce la Regione. La Regione interviene sulle materie che il contratto nazionale delega alle Regioni. Ora c'è una incompatibilità dal punto di vista delle funzioni, per cui i medici in formazione, cioè quelli che devono frequentare tre anni, possono avere al massimo 650 mutuati come medici di famiglia e non possono fare l'attività di continuità assistenziale. Quindi se fanno l'una non possono fare l'altra. Il tema naturalmente è evidente, perché se devono frequentare il corso non possono assistere 650 pazienti come medici di famiglia fare i turni notturni e andare a scuola. Quindi questo è il tema. Allora, che cosa stiamo facendo? Quindi vi sto dando una notizia. Domani incontriamo i sindacati del settore a cui proporremo una rimodulazione delle funzioni, a cui corrisponderà i relativi trattamenti. Quindi i trattamenti sono stabiliti dal contratto nazionale. Noi non possiamo aggiungere una virgola né io ho ricevuto tutta una serie sulle citazioni da parte politica, opposizione e anche maggioranza. Non è che noi possiamo commettere reati. Questo non me lo chiedete perché io se ci sono degli illeciti interverrò nel senso opposto. Noi applichiamo le leggi quelle che prevedono che i trattamenti siano di livello nazionale. rimoduleremo, proporremo ai sindacati delle nuove funzioni, cioè se per esempio accanto all'attività di continuità assistenziale i medici conditi di guardia possono anche somministrare vaccini, allora percepiranno il trattamento per i vaccini. Se lavoreranno insieme all'equipe territoriali proporremo l'attribuzione e il riconoscimento dei trattamenti per la continuità assistenziale. però lo dico soprattutto alla stampa perché non possiamo essere solamente giornali delle marche, siamo una regione importante. Qua mancano i medici, non sono formati, quindi eliminazione del numero chiuso a medicina, raddoppio quantomeno delle borse di studio ed eliminazione delle incompatibilità. Questo stiamo chiedendo noi come marche nella conferenza delle regioni e mi piacerebbe che si aprisse a livello nazionale un dibattito perché non sono problemi solo della regione Marche. Domani comunque incontreremo i medici di famiglia, io vorrei pregare i ragazzi giovani che fanno questo servizio a valutare sempre attentamente che tutti gli sforzi che i dirigenti stanno facendo perché tenete conto noi siamo organi di indirizzo politico ma su questi tavoli stiamo lavorando da mesi per vedere come soddisfare meglio le richieste di questi giovani ragazzi. Dopodiché è corso il contratto collettivo nazionale in cui probabilmente alcuni servizi di continuità assistenziale verranno potati nel senso che non potendosi garantire tutta la panoplia dei servizi che ci sono bisognerà bisognerà dare delle priorità a livello nazionale si sta dando delle priorità all'assistenza primaria ai medici di medicina generale quindi probabilmente il servizio di continuità assistenziale verrà rivisto perché il contratto è previsto che sia concluso entro marzo quindi su questa materia sicuramente avremo delle novità intanto per la regione Marche rispetto a tutto quello che c'è domani proporremo ai sindacati della continuità assistenziale tre ipotesi servizi aggiuntivi a cui corrispondono dei trattamenti aggiuntivi ho verificato nelle schede che ci abbiamo quando è stato aggiunto su fermo per dare una risposta esotiva sono stati aggiunti 11 milioni 860 mila euro ai quali andranno aggiunti diciamo almeno 20 milioni di euro per la strumentazione ecco perché il master plan è un atto di pianificazione dinamico questo avverrà col completamento della struttura e con i nuovi investimenti che in Sanità e a Dasur e al collega Saltamartini stiamo prevedendo per la struttura di fermo quindi un bel impegno economico che stiamo portando a termine stiamo integrando rispetto a quello che lei trovava in precedenza nei piani regionali che adesso invece hanno una visione complessiva grazie per la domanda sì soltanto per sottolineare un aspetto intanto per ringraziare fare i complimenti agli assessori colleghi Saltamartini e Baldelli per il grande lavoro che hanno fatto e per sottolineare che non è una cosa così scontata diciamo parlando di un miliardo circa malcontati di euro per le strutture sanitarie per questo presidio di salute sul territorio e voglio fare una piccola annotazione ed è esattamente in coerenza con quanto detto e fatto sia durante la campagna elettorale che negli anni scorsi io ricordo Saltamartini qui davanti per anni a manifestare per il suo ospedale Baldelli che ha fatto la battaglia per tanti anni per il suo per gli ospedali di territorio non il suo ospedale sbagliato ecco oggi noi stiamo preparando un piano che supera quel centralismo democratico scusatemi che voleva chiudere tutto quanto per concentrare nelle grandi città noi invece stiamo facendo un piano che rimette dignità ai territori dando un presidio di salute in ogni paese in ogni comunità perché come diceva prima Francesco Baldelli noi abbiamo un policentrismo in questa regione e quindi è necessario ridare segnali di vitalità e di rispetto anche in certi territori senza costringersi senza costringerli a curarsi altrove e quindi questo è un fatto che non deve andare sottovalutato prima di tutto perché quella di oggi è una delibera che ha dello storico poi per esempio faccio l'esempio di Fano che è stato oggetto anche di diverse discussioni in questo piano ci sono 16 milioni per l'ospedale ma non di secondo interesse la rimessa in pristino del ospedaletto dei bambini per 5,5 milioni di euro una cosa storica che in tanti hanno chiesto all'assessore Saltamartini e all'assessore Baldelli quindi qui ci sono delle cose vere che per anni si è discusso in questa regione io ho passato gli ultimi 12 anni in consiglio regionale sono argomenti di cui ci sono sfiumi di trascrizione del consiglio in questo piano ci sono i fatti concreti con la copertura finanziaria quindi invito soprattutto la stampa a dare il giusto merito per il lavoro fatto perché questa di oggi è una delibera davvero dai connotati storici grazie ci sono altre domande se non ci sono altre domande io ringrazio tutti coloro che hanno preso parte a questa conferenza stampa ringrazio coloro che hanno lavorato in giunta negli uffici e ci diamo appuntamento alle prossime occasioni buon proseguimento grazie